Volete sperimentare l'operatività in borsa senza correre rischi? È possibile! Partecipate al concorso Conoscere la borsa più delle casse di risparmio. Avete 11 settimane per investire e moltiplicare il vostro capitale iniziale di 100.000 euro. Non sono necessarie conoscenze preliminari. Affinché possiate destreggiarvi meglio nel mondo dei titoli azionari, vi spieghiamo i termini più importanti. Oggi, One Cancer's Other Order. I corsi dei titoli sono soggetti a costanti fluttuazioni. Spesso è difficile stimare se saliranno o scenderanno. Per agire in fretta, gli investitori devono osservare attentamente il mercato. Ma cosa succede se non è possibile agire subito di persona? Per questo caso esistono diversi ordini complessi. Questi ordini reagiscono automaticamente a determinati movimenti di mercato. Essi assicurano l'acquisto o la vendita dei vostri titoli senza che dobbiate fare nulla personalmente. Un esempio è One Cancels Other Order. In italiano significa un ordine cancella l'altra. Un solo ordine garantisce che i vostri profitti siano alti e le perdite basse. Facciamo un esempio. Avete 60 azioni della Sneaker SPA. Questa è attualmente quotata a 40 euro. Ci si aspetta che quest'azione scenda a breve termine ancora un po', per poi risalire a lungo termine. Voi volete limitare la perdita verso il basso e al tempo stesso approfittare di potenziali profitti. Impostate quindi un One Cancels Other Order con due ordini. Uno Stop Loss Order a 35 euro e un Limit Order a 45 euro. In tal modo siete doppiamente al sicuro. Il One Cancels Other Order ha una particolarità. È composto in realtà da due ordini, di cui soltanto uno viene eseguito. Quello la cui condizione si verifica per prima. Se l'azione continua a vostro favore verso l'obiettivo dei 45 euro, interviene il Limit Order. Voi vendete e lo Stop Loss Order viene cancellato. Se la quotazione crolla e scende al di sotto del limite di Stop Loss, l'ordine si trasforma in un Market Order e viene liquidato al meglio con il TIC successivo. Al tempo stesso, il Limit Order viene cancellato. Si garantisce così il proprio titolo verso l'alto e verso il basso, con un ordine aggiuntivo. Strumenti ausiliari come questi ordini vi aiutano nella compravendita sicura in borsa. Provare per credere. Non servono conoscenze preliminari e non correte rischi. Con il concorso di Conoscere la Borsa Più delle casse di risparmio.